Nel 2021 l'associazione I Grignetti, poco fuori Fano Adriano, ha impiantato questa vigna. Siete orgogliosi, quest'anno scatta la prima vendemmia? Sì, quest'anno partirà la prima vendemmia. Noi naturalmente abbiamo recuperato circa 70 viti da vecchie piante ubicate qui nei pressi del paese, dei vecchi vitigni che ora possiamo definirli autoctoni. Ha un nome particolare questo vitigno? Allora, al momento noi abbiamo dato dei nomi che fanno riferimento alle località dove sono stati prelevati, quindi abbiamo denominato con il nome di vergaro e vignole. Queste 70 piante sono quelle che rappresentano questo primo filare. Quindi è la memoria. La memoria del vino dei nostri padri, diciamo così. E poi oltre questo abbiamo impiantato altre varietà a livello sperimentare per capire come potevano reagire a queste quote. Cosa avete messo? Quindi abbiamo messo diverse varietà, alcune tipiche abruzzesi come il Montepulciano, il Montonico e poi altre varietà. Quasi fatto? Riesling, Pinot, insomma. E quindi adesso procederemo con questa sperimentazione, vinificando ogni singola varietà per conto proprio. E faranno tutti i grignetti, tutti i volontari dell'associazione? Tutti i volontari dell'associazione. Questa è una vigna di comunità. Anche i paesani hanno adottato le barbatelle versando una piccola quota. Domenico ci teneva a ringraziare anche Giovanni del Vergaro. Sì, Giovanni del Vergaro perché ci ha dato questo piccolo spazio di mille metri dove poter impiantare questo vigneto. Ci ritroviamo qui per assaggiare il vino. Senz'altro, senz'altro. Bene, ci rivediamo prossimamente.